ma ben a tutti ragazzi oggi siamo con alex raga oggi ale vi racconterà una storia ovvero la storia di favarigna che è un sacco di merda ragazzi una piccola storia in cui favarigna ha truffo male senza che lui facesse nulla vai ale racconta questa storia a tutti allora in pratica ero un giusto ero in lobby che devo giocare con degli amici che avevi dedicato e insomma la prima volta come youtuber è stato scambiato e poi c'è un amico suo eh chris chris ora aspetta 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 un attimo aspetta un attimo ragazzi ora qua vi faccio vedere i canali di favarigna e di chris guardate questo è favarigna l'hanno bannato già il primo account che c'aveva di 11.000 iscritti questo qua è favarigna ragazzi è un fake della madonna guardate qua guardate qua come baggare la nuova base ragazzi il monte spago ragazzi come baggare la nuova base di tavolaccia ma qua stiamo scherzando ma stiamo scherzando veramente cioè raga io non c'ho parole raga non si possono non si possono baggare altre basi che non sia pietralegno perchè pietralegno c'è più strutture e si bagga facilissimo guardate qua ragazzi guardate qua ecco come duplicare con la nuova base baggata nuova base baggata ragazzi ok allora se voi siete se voi siete intelligenti se voi siete intelligenti si si aspettate raga se voi siete intelligenti avreste già capito perchè lui fa il video come duplicare con la nuova base baggata subito dopo dopo quattro giorni fa come duplicare la nuova base al 100% su tavolaccia questa è qua il tavolaccia ragazzi ma se tu duplichi già su monta e spago perchè devi duplicare anche sul tavolaccia ragazzi non ha senso non ha senso questi video sono fatti tutti quanti per le visual ragazzi sono fatti per le visual sono fatti per le visual capite o no? 20.000 trappole give di 20.000 trappole certo ma che schifo è give di 20.000 trappole guardate guardate cosa give raga ma guardate cosa give non ha anche uno youtuber di 20 iscritti che va così poco guardate guardate raga guardate guardate quanto give cioè questi saranno si e no 100 armi raga si e no 100 armi vabbè ragazzi lasciamo lasciamo stare questo ognuno può chi fare quanto vuole se questo non non ne discutiamo poi 97 spettatori dice che fa più spettatori di ombra ma vabbè lasciamo stare lasciamo proprio stare vabbè torniamo su questo argomento questo qua è Favaregna33 il fake della madonna raga ha pure fatto un video contro ombra in questo video di davis becco in cui diceva che l'avevano chiamato per un video le hanno pagato un bulldozer raga secondo me non è proprio vero eh non è vero raga perché io sono amico di ombra fai video fake mi truffo tutto raga vedete allora ora noi cerchiamo K8 Uzz sicuramente non ci uscirà nulla K8 Uzz K8 Uzz K8 Uzz in realtà è Chris è notato come Chris questo qua è K8 Uzz ragazzi lui lui non so se faccia video fake però so solamente che ha truffato il povero Ale ridillo 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 vai continua la storia Ale aspettate raga c'ha 56.300 iscritti ragazzi questo qui c'ha 56.300 iscritti è truffa ragazzi truffa quindi rendetevi conto questa che è un unity vai Ale continuo tra l'altro qua c'è anche lo scambio normale io ho da poco più per arrivare sempre il mondo ma mi sento quindi che rango hai di super giù? 15 16 rango 15 rango 15 ragazzi continuate continuo continuo poi Chris dice a Fawa che lui sapeva doveva darsene invece di cliccare ha usato un condizion che stava un po' di tempo che si andava sotto la mappa eh il glitch sotto la mappa ragazzi il glitch sotto la mappa posso il glitch sotto la mappa? vediamo vediamo come andare sotto sotto la mappa il pietra il legno vediamo se c'è qualcosa vediamo se c'è vediamo se c'è vediamo se c'è andiamo vediamo questo video l'ha portato sia Chris e sia sia Favaro e i miei ragazzoni l'hanno portato tutti e due ora se lo trovo vi faccio vedere ok vabbè lo vediamo qua direttamente vediamo come andare se non l'hanno tolto ragazzi perché io mi ricordo che davvero l'hanno fatto tutti e due se non l'hanno tolto raga vediamo se non l'hanno tolto oppure non gli ha tolto youtube vediamo 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 no per raga io qua non lo vedo comunque c'è se lo cercate bene c'è me lo posso assicurare sia di Favarigna sia di Chris tutti e due vediamo ok no si mi si fa troppo ok non c'è l'hanno tolto ragazzi l'hanno tolto mi sa cerchiamo Favarigna che schifo speriamo che non mi si rompa il computer vediamo se Favarigna l'ha lasciato si ma tutte copartine uguali raga ovviamente vediamo vediamo se l'ha lasciato no non penso che l'ha lasciato ecco come duplicare infinite andando sotto la mappa ecco qua raga fa vedere sia il glitch qui ragazzi fa vedere sia il glitch guardate quando farete volare guardate qua fa il glitch fa vedere il glitch per andare sotto la mappa guardate e lui qua sta sotto la mappa aiuta a legno raga avevo fatto un video del genere però poi molto probabilmente l'ha rimosso non so perchè perchè l'ha rimosso youtube e niente vai continua si può fare anche sul tavolaccio eh ragazzi si può fare anche sul tavolaccio ho fatto io il video non è andato per un'altra vai Ali continuo si è mutato sul disco d'alex si si ora si vai si è mutato lui mi dice che l'ha riuscito a dire che mi ha portato andando sotto la mappa e poi ero per il tuo caso e abbiamo venuto da scambare il mio papà appena abbiamo iniziato io ho visto delle vite le cose che ho provato prima ha gruppato l'ho gruppato io mi ha dato anche per me sentito assaltato e io non ho visto che stava pure sotto la mappa e mi prego questa arma abbiamo preso l'arma hanno visto che l'arma corretta e adesso l'hanno espulso evitatevi degli altri niente ragazzi in questo video può finire qua qua sbuggiardiamo Favarigna siamo tutti quanti dalla parte di ombra ragazzoli e niente bello e poi l'ho in questo video vediamo e